Mi chiamo Lamberto Selliri e sono per Turismo all'Aria Aperta. Malga Stabolone, una notte in Malga, è un'esperienza sensoriale, specie per me che viaggio a tutto il mondo, essendo abituato a vivere nei posti più strani, e ritornare in Italia e poter vivere qui, in questo posto, poter condividere con altre persone, con altri colleghi giornalisti, una notte in una Malga, una notte vera, una notte senza gli sfronzoli di soliti alberghi pieni di turisti e pieni di lusso o di servizi, qui si vive veramente la vita normale, la vita rurale di un tempo, la vita che facevano forse i nostri nonni e che noi abbiamo nei nostri cromosomi, quindi ritorna spontaneo poter vivere nel sacco a pelo, poter dormire con gente anche che non conosci, condividere il mangiare e la cosa stupenda è il fuoco alla sera, dove ci si trova tutti intorno a un focolare, ognuno racconta le sue esperienze, racconta la sua vita, e vivere veramente la vita di società, la società rurale di un tempo, e per me questa è stata un'esperienza bellissima, perché sono ritornato bambino, sono ritornato come un tempo, non ho più bisogno di tutto quello che mi dà la società di oggi, rivivo la vita di un tempo, e io ringrazio molto, mi hanno invitato a fare questa esperienza, grazie. Grazie. Grazie.